Ciao Giacomo, senti forse è meglio se stasera non ci vediamo perché ho il sospetto che abbiamo due opinioni un po' diverse sulla nostra amicizia e te lo dico con la morte nel cuore perché se c'è una persona che mi è stata vicina in questo periodo quello sei più Giacomo tu sei veramente una persona stupenda, ma purtroppo lo sai ci sono fasi della vita che a volte non riescono ad incrociarsi e mi fa male perché so che questo potrebbe mettere fino alla nostra amicizia però io te lo devo dire, tu hai un cuore d'oro, però fisicamente non provo attrazione nei tuoi confronti, scusami forse perché per me sei sempre stato Giacomo, il ragazzo della finestra di fronte, un amico su cui posso sempre contare spero anche in futuro, beh adesso vado a letto perché mi sento una tosse strana, speriamo non sia niente di grave ciao